Cortometraggi e lungometraggi, dove i protagonisti sono i ragazzi con disabilità. È nato quasi per gioco, all'interno di un'associazione di volontariato, il percorso della Poti Pictures, diventato poi una realtà professionale solida, continuando a realizzare videoclip, documentari, corti, dalla vocazione sociale, in grado di raccontare storie quotidiane o fantastiche, con un'identità stilistica assolutamente particolare. L'obiettivo è quello di fare promozione sociale, senza però cadere nel pietismo, utilizzando il mezzo audiovisivo come mezzo di comunicazione e di inclusione, per superare le barriere e gli ostacoli della disabilità, senza però snaturare le caratteristiche di chi sta davanti alla camera da presa. Su questa scrivania ci sono numerosi premi che la Poti Pictures ha vinto nel corso degli ultimi anni. Che tipo di esperienze sono state e perché le ha vinti la Poti Pictures? Sì, ci sono stati tantissimi riconoscimenti, tanti modi per far vedere i nostri attori, insomma, anche in giro per il mondo. Forse la cosa che più funziona è la freschezza, insomma, l'originalità e il modo che abbiamo noi anche di porci di fronte alla disabilità, proprio perché la vediamo tutti i giorni, quindi non la vediamo. E allora la normalizzazione, insomma, è forse quello che funziona di più. Chi sono gli attori della Poti Pictures? Gli attori della Poti Pictures sono una cosa strepitosa, poi li conoscerete perché sono persone che hanno tantissimo da dare e lo fanno con una costanza e un impegno incredibile. E il personaggio che solitamente gli viene calcato addosso è sicuramente un personaggio che riesce a funzionare anche sul grande schermo. Come è nata questa esperienza? È un'esperienza che è nata come le cose più belle, poi alla fine è nata per gioco, senza pretese, con una telecamerina, poi una telecamerina rotta, due, tre, telecamerine rotte. Abbiamo avuto la costanza, insomma, di testarci, perché, insomma, ecco, nata appunto nell'ambito della vacanza di Poti con l'associazione Cenacolo Francescano, con questi ragazzi, era un gioco, un passatempo. Poi abbiamo visto che però questo passatempo riusciva a coinvolgere non solo loro nei periodi di shooting, di riprese, insomma, ma a coinvolgere poi il prodotto finito sempre una vastità sempre più grande di persone. quindi è di pubblico, riusciva ad arrivare veramente anche laddove non si conosce o non si ha contatto con il sociale o la disabilità. E quindi, ecco, è arrivata ad essere una vera e propria realtà professionale, ora è ramo d'azienda della cooperativa Il Cenacolo. E quindi, ecco... Vi distinguete per il cinema sociale con un approccio forse inverso a quello che c'è stato fino adesso. venite dal sociale e avete a questo applicato diciamo, conoscenze tecniche di regia, di montaggio. Esattamente, sì, è forse quello che solitamente, ecco, anche in chi deve realizzare un video, insomma, quello che riesce a convincere su scegliere, poti picciare, è proprio questo, insomma, chi viene dal sociale sa che ci vuole un determinato occhio, insomma. Quindi, dove solitamente un professionista si approccia e quindi lo fa con i mezzi che ha a disposizione, insomma, a livello di conoscenze e a volte, non sempre, ma, insomma, a volte può succedere che dia una visione distorta di quello che è la realtà, insomma, del sociale. Da noi succede esattamente, come ha detto, è l'inverso, proprio perché c'è una conoscenza di fondo e una stima che va al di là di quelle che sono le difficoltà e soprattutto che tiene conto di quello che uno riesce a dare e non si ferma soltanto su quello che può fare. Quindi l'ottica è senz'altro completamente diversa. Ecco, voi ogni anno, insomma, fate anche un momento così d'incontro con il pubblico, una premiere, insomma, c'è stata anche nel mese di marzo al Teatro Petrarca. Che riscontro avete tra la gente che assiste, insomma, a queste serate? Ma, devo dire, bellissimo. Anche qui abbiamo sempre, diciamo, preso come punto di arrivo dei nostri lavori, percorsi solitamente molto lunghi. Si parla di sei, sette mesi di preparazioni, poi altrettanti di produzione, insomma. E quindi la premiere è sempre stata, fin dagli arbori, il nostro punto di arrivo, soprattutto per loro, insomma. E quindi, ecco, anche lì, come la realtà è cresciuta. Abbiamo fatto la stanzetta, il cinemino, fino ad arrivare al teatro, poi dopo la multisala e poi alla fine quest'anno il Teatro Petrarca. Il riscontro col pubblico è appunto parallelo a questa escalation, proprio perché ci rendiamo conto che sempre più persone sono interessato a questo tipo di promozione, che è sicuramente originale, sicuramente nuova. E all'uscita, proprio ecco, per dare una risposta, quello che ci viene detto di più è grazie perché ci siamo divertiti a prescindere. Forse il più bel complimento che mi è stato fatto da una persona che non conoscevo e che non aveva niente a che fare con il sociale fu, sì, un bel film, una cosa rivista, insomma, però ho girato, ho montato bene. Devo dire che il fatto di essere riusciti per un'ora a distogliere l'attenzione dal fattore disabilità credo che sia il complimento più grosso. Insomma, essere giudicato, anche se come film mediocre o non eccelso, essere giudicato per il prodotto cinematografico. Credo che sia al massimo. Ecco, la vincita di questi premi o comunque, insomma, le classifiche che avete scalato nei vari festival a livello internazionale vi ha portato più di una volta anche all'estero con gli attori stessi. Che esperienze sono state per te e per loro? Incredibili, incredibili da avere star come, parafrasando il nostro ultimo cortometraggio appunto, perché l'esperienza di Tiziano in Texas in un festival internazionale di cinema, quindi in un contesto completamente neutro, in un festival molto importante con comunque tutta una rete dietro importante, cioè SUV, che ti vengono a prendere, ti portano di qua e di là, alberghi a quattro stelle, gente che ti chiede l'autografo, interviste, università, dai banchi di università a parlare dell'esperienza, Tiziano questo, insomma. Quindi sicuramente per lui un'esperienza da star incredibile. Per noi che comunque si accompagna, che siamo sempre dietro, perché non perdiamo l'occasione comunque di filmare anche questo, è sempre comunque un'esperienza da star da dietro, ma sempre comunque molto molto importante. L'ultimo viaggio fatto, il penultimo fatto a Brighton in Inghilterra, eravamo con quattro ragazzi, insomma anche qui è stata un'esperienza comunque incredibile, anche perché molti di loro poi non hanno molte possibilità anche di viaggiare, quindi già il fatto di trovarsi in un paese, in una città straniera, è lingua, è già un sogno quello a prescindere. Poi ritrovarti in un festival dove come arrivi ti osannano, ti mettono il pass al collo, cioè ti fanno interviste, è sicuramente un sogno, insomma, è cinerentola. Perché secondo te la Puoti Picture ha questa forza, questa forza di bucare tra la gente, probabilmente anche tra le istituzioni, vi hanno capito? Qual è il segreto? Gli attori, gli attori, essere riusciti a... Aspetta che c'è la telefono, vai. Gli attori, gli attori sicuramente l'unico merito forse nostro è di essere riusciti proprio in virtù di questa conoscenza che c'è a Monte, ecco perché tanto periodo prima di preparazione, a tirare fuori quello che effettivamente uno riesce, quello che uno può dare. Se arriva a noi come amici, poi alla fine la freschezza, la simpatia, l'originalità in quel personaggio lì, arriva a chiunque. Quindi mostrare quello che è, senza voler velare, senza voler modificare, con tutta la libertà, anche nell'autoironia, di non prendersi mai troppo sul serio. Credo che sia questo il segreto della Puoti. Anche Paolo, l'attore, ha interpretato anche un avvocato. Io ho interpretato un avvocato, poi ho interpretato il cattivo in Heroes, poi Robert Debrouze in Braveheart. Insomma, sono state per me delle parti molto belle, sono stato contento di fare queste parti, anche perché la mia vita è solo di cinema e quindi sono contento di farlo. Da quanto tempo lo fai? È da tanto. Quindi per me la mia vita è molto emozionante. E i premi? Quando siete andati a ritirare i premi, come è andato? Ma il premio più bello è stato quando siamo stati a Roma e c'è l'Ala Algerini, quello è il premio più interessante che ci sia stato. E soprattutto il premio che abbiamo vinto con vicini dell'altro tipo. Perché ti è piaciuto? Perché l'importante è esserci e partecipare e fare di questi premi un tesoro. La gente che dice quando vede questi cortometraggi? Diciamo che la gente quando ci vede contenta di noi è molto interessante, quindi ci scappa qualche autografo, come si dice. E quando registrate, come è tra di voi? Insomma, ci sono delle difficoltà va arrabbiate. Come va, insomma, dietro le quinte? Tutto bene, tutto bene. Tutto a posto, come si direbbe. Daniele non si arrabbia mai? No, Daniele è bravo, è simpatico e io sono molto fiero di averlo come regista. Mario, raccontaci la tua esperienza di attore. Che ruoli hai fatto? L'attore è bombo a tutto. e Frank, Stein, Superman, eccetera, eccetera. È stato molto emozionante e anche bellissimo. Ti ricordi una scena in particolare, forse quella di Superman? Ce la puoi raccontare? E di Superman basta salvare una persona che stava buttando in un palazzo all'istituto e lo stava salvando. Dove l'avete girato? L'abbiamo girato a Gazzi, un pezzo e poi l'abbiamo girato in altri parti. E la gente applaude quando vede le vostre scene? Certo, certo. È stato molto irrupico, molto contento e molto emozionante. Sei stato anche all'estero, anche te, a ritirare dei premi, vero? Sì, a Brighton, a Londra, bene, con l'aereo, bene, bene. Comunque sono stato sotto controllato e controllato da metà attetetto perché lì non si scherza. Non si scherza. E quando avete ritirato il premio te le ricordi la serata, come è andata? Bene, bene, bene. Sono stato, sono stati bene. Titti, com'è il tuo paese? Benissimo. Ci vuoi venire da stare? No. Buonassene, siamo qui nell'America, Dallas. Stiamo a mangiare ora. Forse vanno in università. In America, come qui, io non ci sono mai stato. Avete fatto più regali di tutti, guarda. Se arriva a noi, come amici, poi alla fine la freschezza, la simpatia, l'originalità in quel personaggio lì, arriva a chiunque. Quindi mostrare quello che è, senza voler velare, senza voler modificare, con tutta la libertà, anche nell'autoironia di non prendersi mai troppo sul serio. Credo che sia questo il segreto della voti.